Street food, degustazioni e corsi per assaggiatori di pane, olio e vino, più di 60 stand con le migliori produzioni enogastronomiche calabresi, il cookie show di Francesco Mazzei, lo chef calabrese famoso in tutto il mondo, eventi artistici e concerti. Tutto questo sarà Summer Food 2015, evento in programma a Corigliano Calabro, nel quadrato Compagna Palazzo delle Fiere, da mercoledì 5 a venerdì 7 agosto. Come se fosse un sogno nel cassetto che sono riuscita a realizzare, perché sono già due anni che sto tentando di organizzare qualcosa del genere al quadrato di Schiavonea, che il barone Compagna, con l'Ugimiranza, ha creato proprio come Palazzo delle Fiere per favorire gli scambi commerciali. E quale migliore occasione dell'Expo per creare un evento relativo al food, anche a Schiavonea, da portare avanti nel tempo? Cercando di far diventare il Palazzo delle Fiere, come già dice effettivamente il nome, un posto dove possano emergere le eccellenze non solo del sud dell'Italia, ma anche italiane e perché no anche del resto del mondo.